Indagini Drago, maxi operazione dei carabinieri, sgominata un'organizzazione criminale legata all'Andrangheta. Caos nei trasporti a Carrara, Forza Italia chiede che intervenga la Regione. Continue infiltrazioni del canale montignoso, il Movimento 5 Stelle interroga la Giunta sul tema. Un report sul pericolo degli agenti cancerogene sul lavoro, ne parlerà sabato 17 il Movimento 5 Stelle. Parco della rimembranza Carrara, l'amministrazione si impegna a garantire la vivibilità del parco. Calcio a 5, grande match sabato tra il Città di Massa e il Real Rieti, squadra di serie A1. Buonasera a tutti i nostri telespettatori a questa nuova puntata del telegiornale di Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, maxi operazione dei carabinieri che ha portato a sgominare un'organizzazione criminale legata all'Andrangheta Lametina, operante anche nel territorio a Puano. In tutto 7 le custodie cautelari eseguite. Maxi operazione dei carabinieri di Massa Carrara, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. Dalle intercettazioni sono emerse frasi shock pronunciate proprio dai capi dell'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri. L'organizzazione risultata e risulta tutt'ora comunicano i carabinieri capeggiata da un soggetto già appartenente alla cosca di Lamezia Terme di Cerra Giampato Orcasio, Drangheta Lametina, gravato da numerosi precedenti penali e condanne per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione ed ha visto il coinvolgimento anche di un altro soggetto affiliato del clan Nuzzo di Acerra. I reati, investigati nel periodo compreso tra ottobre 2017 fino ad oggi, hanno visto protagonisti soggetti appartenenti ad una vera e propria organizzazione criminale operanti da lungo tempo nelle province di Massacarrara e Lucca, nel settore economico finanziario che si imponeva negli affari illegali con azioni estorsive, talvolta violente, finalizzate alla raccolta di considerevoli somme di denaro da reimpiegare in ulteriori attività lecite ed illecite. L'operazione denominata Drago nei confronti di soggetti provenienti da aree del meridione ad alta densità criminale e soggetti residenti nella provincia di Massacarrara si è conclusa le prime ore della mattina. In tutto, in fase esecutiva, sono stati impiegati 60 carabinieri del comando provinciale di Massacarrara con il supporto dei militari delle compagnie di Napoli, Acerra, Porto Ceresio e del nucleo cinofilo di Pisa-San Rossore. L'operazione ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale radicata sul territorio apuano, dedita a reati di natura estorsiva posti in essere avvalendosi dell'aggravante del metodo mafioso, sia reati di natura finanziaria relativi alla concessione di un numero indeterminato di finanziamenti bancari basati sulla presentazione di documentazione fiscale falsificata. A carico di 7 di essi, comunicano i carabinieri, sono state emesse ed eseguite misure cautelari personali consistenti nella custodia cautelare in carcere per 5 soggetti, nella sottoposizione agli arresti domiciliari per altri 2 ed altri 8 sono stati indagati in stato di libertà. Nello stesso contesto sono state eseguite 19 perquisizioni, sia nel capoluogo a Puano, sia a Napoli, Acerra, Porto Ceresio e Seravezza, con l'acquisizione di numerosi documenti probatori e materiale informatico, oltre al sequestro di un'attività commerciale, una tipografia nella quale venivano confezionati ad hoc documenti falsificati ed altro. I soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi della libertà personale si sono resi responsabili, in concorso tra loro, di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e il patrimonio, tra i quali emergono turbata libertà degli incanti, falsità in atti di ogni genere, storsione, truffa, perpetrate in provincia di Massacarrara e Lucca, in danno di persone fisiche e giuridiche. Bus a Intermittanza Carrara interviene il consigliere regionale di Forza Età, Olea Maurizio Marchetti. Prendere un mezzo pubblico pagando il biglietto, afferma, non può essere una riffa. La Regione Toscana intervenga. La Regione assicuri che l'offerta di trasporto pubblico locale sia adeguata alla richiesta, soprattutto nelle fasce orarie interessate dal pendolarismo, in particolare scolastico, e lungo tratte delicate come quelle che collegano il territorio di Massacarrara al NOA. Sono queste le parole di Maurizio Marchetti, capogruppo regionale di Forza Italia, che aggiunge «Quanto sta accadendo con corse che saltano senza spiegazione né preavviso a danno di utenze delicate, come studenti e malati o loro familiari, non può andare avanti. Scegliere di prendere un mezzo pubblico e pagare il biglietto o l'abbonamento, spiega Marchetti, non può essere una riffa quotidiana con scommesse su se passa e come, visto che alcuni mezzi sono così malmesti che vi piove perfino all'interno». Marchetti a più riprese ha chiesto l'intervento della Regione sui livelli di servizio del trasporto pubblico locale, spesso inadeguati e insufficienti in più parti della Toscana. Quello di Carrara non è un caso isolato, spetta l'Aggiunta Toscana, afferma Marchetti, ottimizzare il servizio per quantità e qualità, eventualmente istituendo un gruppo di lavoro che si occupi di incrociare dati sui flussi, tempi, spazi e numero di abbonati, per allineare l'offerta alla domanda. L'assessore viene in aula con bei numeri sulla carta, attacca Marchetti, poi però la realtà è questa. A settembre, con la ripresa delle scuole del lavoro, il capogruppo di Forza Italia aveva portato i disservizi nella rete di trasporto pubblico locale all'attenzione della Regione, attraverso un'interrogazione ancora in attesa di risposta, fa sapere Marchetti, che ribadisce le sue sollecitazioni ad adeguare le flotte per numero e qualità dei mezzi, ai bisogni di mobilità dell'utenza, soprattutto nelle fasce orarie di punta. Ai viaggiatori viene richiesto il pagamento e, prosegue Marchetti, a loro deve essere corrisposto un servizio adeguato, soprattutto dove si sa che a bordo viaggiano ragazzi, anziani e malati, ha concluso. Carrara ha rischiato di perdere il suo liceo scientifico. Se la sede del Marconi resterà in città, è grazie alla battaglia portata avanti dal sindaco Francesco De Pasquale in sede di conferenza zonale delle scuole, che si è battuto per mantenere l'autonomia ed evitarne l'accorpamento. Il processo di dimensionamento delle scuole superiori è in corso da recenni, complice il calo demografico e la mancanza di sedi. Negli anni i singoli istituti hanno perso autonomia e dirigenze didattiche. Per effetto del processo di dimensionamento, oggi a Carrara tutte le superiori hanno il dirigente in condivisione. Unica eccezione, il liceo scientifico Marconi, che ha mantenuto l'autonomia e ha un dirigente proprio, nonostante ormai da diversi anni abbia perso i numeri, almeno 600 studenti. Stessa situazione per il liceo scientifico di massa Enrico Fermi, che è anch'esso sottodimensionato. Preso atto dei numeri dei due licei e delle esigenze di tagliare i costi nella riunione del 16 ottobre scorso, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti ha proposto di accorpare Fermi e Marconi in un'unica scuola. E visto che lo scientifico Marconi è ospitato in una struttura in cui sta stretto e che condivide con l'itis Galilei, sembrava ovvia la collocazione del nuovo liceo a massa. Il sindaco di Carrara si è fermamente opposto all'idea del trasferimento del Marconi a massa, ma non ha potuto prendere atto del fatto che il liceo scientifico non ha più i numeri per mantenere l'autonomia a causa della serie attuale che non consente una crescita delle istituzioni perché la struttura di Biacampo d'Appio non è in grado di contenere un numero maggiore di studenti. In attesa della costruzione di una nuova scuola, che non avverrà prima di 4-5 anni, i numeri del Marconi sono destinati dunque a rimanere quelli di oggi, mantenendo in città la sede dello scientifico. Le perdite del canale di Montignoso continuano. Il consigliere pentastellato di Montignoso, Paolo Lenzetti, nell'ultimo Consiglio Comunale, ha interrogato nuovamente il sindaco e gli assessori sul tema. Sentiamo. Le infiltrazioni del canale Montignoso continuano. A porre nuovamente l'attenzione sul problema il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montignoso, Paolo Lenzetti, che durante l'ultimo Consiglio Comunale ha interrogato nuovamente il sindaco e gli assessori sulle copiose perdite del canale Montignoso, in particolare nel tratto Viale Marina, via Prade, via Nespole e via Bregoscia. Ed è proprio in queste due ultime strade, ha spiegato Lenzetti, che le perdite hanno provocato disagio ad alcuni residenti. Nonostante tante segnalazioni fatte negli anni in consiglio su questo tema, i problemi di tenuta del canale continuano, afferma il consigliere pentastellato, che ha chiesto se siano previsti interventi risolutivi a tutela della salvaguardia dei cittadini e del territorio. E, fa sapere Lenzetti, il sindaco ha garantito un intervento in regione. Lenzetti poi in Consiglio Comunale ha posto il problema delle condizioni del patrimonio verde, soprattutto dopo il maltempo degli ultimi giorni. E il consigliere, in merito, ha chiesto se il comune di Montignoso intenda procedere con il censimento del verde pubblico, dove, ha spiegato Lenzetti, oltre alle specie venga indicato da esperti lo stato delle piante. Da qui, propone il consigliere, partire con una pianificazione degli interventi, dalla potatura alla piantumazione di alberi adeguati, a seconda della zona e dei rischi idrogeologici a cui è esposta. Infine, fa sapere il Movimento 5 Stelle di Montignoso, è stata sensibilizzata l'amministrazione anche alla manutenzione dei boschi, dei sottoboschi e dei sentieri, per potenziare la tenuta del suolo ed evitare così le cadute dei fusti. Laura Gea, eurodeputata e capo delegazione per il Movimento 5 Stelle, presenterà sabato 17 novembre il report legislativo in discussione al Parlamento europeo sul pericolo degli agenti cancerogeni sul posto di lavoro. L'evento si terrà alle 16 a Palazzo Ducale, nella sala dell'ex presidenza. Ma ce ne parla nell'intervista l'avvocato Massimiliano Paolicchi. Sabato 17 la cittadinanza è invitata a partecipare a questo incontro che si terrà presso il Palazzo Ducale, nella sala dell'ex presidenza, perché presenteremo il nostro studio e presenteremo il disegno, il progetto di direttiva comunitare che introduce nuovi agenti cancerogeni e i limiti per l'esposizione a questi agenti da parte di tutta la popolazione lavoratrice in Europa. Chi è che interverrà? Innanzitutto la nostra portavoce, nonché la relatrice della direttiva, l'eurodeputata Laura Agea. Interverranno poi anche Fabio Massimo Castaldo, che è il vicepresidente del Parlamento europeo. L'avvocato Bonanni, che è uno dei massimi esponenti nel settore della tutela dei lavoratori e della salubrità negli ambienti di lavoro. Interverrò io in qualità di esperto in malattie professionali. Interverrà poi l'ingegnere Badiale, che insieme a tutti noi illustrerà proprio i punti toccati dalla direttiva e l'esigenza di tutelare da un lato la salubrità dei posti di lavoro, ma soprattutto e anche garantire la sopravvivenza di quelle piccole e medie imprese che con questa direttiva, se non ci fossero dei correttivi, possono rischiare di essere travolte dall'obbligatorietà di certi investimenti. E quali sono alcuni di questi nuovi agenti che vengono annoverati nella direttiva? Sì, possiamo pensare per esempio al cadmio, al berillio, alla formaldeide, tutte sostanze che ormai lo IARC stesso e studi scientifici hanno dimostrato la genotossicità, ovvero il fatto che l'esposizione prolungata nel tempo sia a causa di malattie tumorali. Per questo queste sostanze hanno bisogno di essere limitate nell'esposizione e vanno previsti dei meccanismi per cui attraverso o produzione a ciclo chiuso, e spiegheremo poi meglio di cosa si tratta, o comunque con una organizzazione della forza lavoro si riesca a limitare questa esposizione e quindi a ridurre il rischio per la salute della popolazione. Sanità in Lunigiana, risoluzione del consigliere regionale Giacomo Bugliani per un tavolo tecnico in regione. Dopo l'incontro con i comitati e con la commissione Sanità, Bugliani si fa portavoce delle stanze del territorio. Ascoltiamo. Costruire un tavolo per analizzare le tematiche e le criticità segnalate dal Comitato SOS Salute Lunigiana e dal Comitato in difesa del diritto alla salute della Lunigiana, che coinvolga le rappresentanze istituzionali, locali e regionali, l'azienda unita sanitaria locale, rappresentanti delle associazioni locali maggiormente rappresentative, è quanto sollecita il consigliere regionale Giacomo Bugliani che ritiene che così si possano dare risposte concrete ai territori disagiati e sostenere e rafforzare l'assistenza sanitaria nelle zone periferiche e montane con attenzione soprattutto alla Lunigiana. Per questo Bugliani ha presentato una risoluzione a venta d'oggetto, la costituzione di un tavolo tecnico per definire le azioni a sostegno della sanità in Lunigiana. Il 30 ottobre in Commissione Sanità si è svolta l'audizione del Comitato SOS Salute Lunigiana e del Comitato in difesa del diritto alla salute della Lunigiana, che, afferma Bugliani, hanno richiesto precise azioni e sostegno della sanità sul territorio, tra cui il mantenimento dei presidi ospedalieri già attivi Pontremoli e Fivizzano, crescita ed efficienza dei servizi, la presenza di un medico anestesista e rianimatore a Fivizzano, il servizio di guardia medica pediatrica, un potenziamento della presenza di infermieri al pronto soccorso di Pontremoli, nonché la garanzia della presenza di un medico per il trasporto assistito. Nell'ottica di proseguire questo percorso, spiega Bugliani, ho sollecitato con una risoluzione la creazione di un tavolo tecnico che tenga insieme tutti gli attori coinvolti per dare risposta ai cittadini. La programmazione degli ospedali di montagna e il tema della sanità nelle aree svantaggiate periferiche, aggiunge ancora Bugliani, è fondamentale per garantire ai cittadini servizi adeguati e realizzare l'uniformità di trattamento in tutto il territorio, anche continua per scondurare lo spopolamento delle aree in questione. Un tavolo tecnico quindi per Bugliani rappresenta lo strumento più adeguato per proseguire nell'impegno intrapreso. Torniamo a parlare di trasporti. Non potevamo stare in silenzio sull'ennesimo di servizio a danno dei cittadini. Lo dichiara Masta, città in comune e rifondazione comunista che comunicano di aver chiesto ai consiglieri regionali Tommaso Fattori e Paolo Sarti di intervenire in regione chiedendo quali siano le misure che l'amministrazione regionale vuole prendere in merito all'evidente fallimento delle politiche di trasporto. La nostra richiesta è stata chiara e portata immediatamente in discussione in consiglio regionale, hanno affermato. Cittadini e cittadine, lavoratrici e lavoratori stanno pagando sulla loro pelle le scelte di altri, scelte scellerate che ancora una volta mettono in evidenza tutti i limiti delle privatizzazioni. A queste ci opponiamo e, concludono, le bloccheremo sul nostro territorio per evitare di dire un domani, ve l'avevamo detto. Lorenzo Porzano, nuovo amministratore unico di Asmio, entra a far parte della Commissione Ambienti di Servizi CISPEL Toscana, l'associazione regionale che raggruppa le aziende che gestiscono rifiuti urbani, riciclaggio e servizi ambientali nel territorio toscano. Una presenza particolarmente utile nel settore, in questa fase caratterizzata dalle nuove sfide dell'economia circolare, dalle decisioni da prendere dell'alto costa e dalla discussione sul nuovo piano regionale dei rifiuti. Le aziende di gestione dei servizi ambientali che aderiscono ai conservizi CISPEL Toscana sono 33, con 5.400 addetti e oltre 980 milioni di valore della produzione. Ci fermiamo adesso qualche breve istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per le altre notizie. A tra poco! Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans levis, rifle, giubbotteria, canadians e dukers, luigi morini, navigare e capi in pelle milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda, in via Carducci 119 a massa. Autunno, siete pronti per i nuovi colori, i profumi, i sapori e siete pronti per piantare i fiori, i alberi da frutto e i ortaggi autunnali? MB Garden è prontissimo, con le piante giuste, i giusti concimi e anche i giusti consigli. MB Garden, via Uralia Ovest 295 a massa, è l'emozione di vivere la natura. Ah, e seguici su Facebook per le nuove offerte settimanale Finalmente, basta irritazioni o arrossamenti. Asciuttissimi, assorbenza e cura del corpo nati dalla ricerca Made in Italy. Pannolini polergenici senza derivati da petrolio o lattice. Massima assorbenza e comfort a prezzi di fabbrica. Proteggi in sicurezza, la nostra cura è prenderci cura di voi. Asciuttissimi, vendita diretta pannolini e pannoloni a Marina di Carrara, in via l'Unense 30 bis, di fronte all'Istituto Magistrale. Consegna a domicilio. Telefono 0585-63-4131. Stefano Gazzogli è il nuovo presidente regionale della FIBA, il sindacato dei balneari di Confesercenti. Il titolare del bagno Sara di Marina di Massa e presidente FIBA, Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto con il voto unanime dei delegati regionali che si sono riuniti in assemblea a Pisa la settimana scorsa. Nella presidenza regionale è entrato anche Antonio Lenzi, titolare del bagno Nuova Italia di Marina di Carrara. Gazzogli e Lenzi hanno poi preso parte all'Assemblea di Roma per l'elezione del nuovo presidente nazionale. Insieme a loro, nella capitale, erano presenti anche Susanna Bertelloni del bagno Roma di Marina di Massa e Maurizio Ragallini del bagno Mauro di Marina di Massa. Parco della rimembranza Carrara. Dopo le segnalazioni e le proposte dei residenti della zona, l'amministrazione comunale si impegna a garantire la vivibilità del parco. Sentiamo. Il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, insieme all'assessore all'ambiente Sara Scaletti e all'assessore al sociale Anna Lucia Galleni, ha fatto visita oggi al parco della rimembranza nella zona dello stadio dove ha incontrato alcuni residenti. L'appuntamento, fa sapere l'amministrazione, è stato organizzato dalla presidente della commissione sociale, Tiziana Guerra, che è in contatto con gli abitanti, per le criticità dell'area pubblica. Da tempo il parco è oggetto di atti di vandalismo che rendono difficile la fruibilità di un luogo di ritrovo per bambini, famiglie e anziani. Dopo una serie di segnalazioni e denunci alle forze dell'ordine, preoccupati per l'incolumità dei frequentatori del parco, alcuni cittadini hanno chiesto l'aiuto dell'amministrazione, dando la propria disponibilità a collaborare attivamente nell'opera di recupero e rilancio dell'area. Ho trovato in queste persone un atteggiamento costruttivo e un attaccamento al proprio quartiere veramente lodevoli, ha affermato il primo cittadino di Carrara, che ha aggiunto. I residenti non si sono limitati a lamentarsi o a raccontare quello che non va, ma si sono messi in gioco in prima persona per risolvere la situazione. Accogliamo con favore la loro iniziativa e faremo il possibile per agevolarla, ha affermato De Pasquale, che ha poi garantito la massima collaborazione dell'amministrazione per combattere il degrado e garantire piena fruibilità del parco. In situazioni complesse come questa, dove si intrenciarono diversi fattori, le soluzioni non arrivano certo dall'oggi al domani, ha continuato il sindaco, che ha aggiunto. Siamo convinti che la frequentazione dei luoghi sia già di per sé un antidoto al degrado. Per andare incontro alle istanze dei cittadini, l'amministrazione fa sapere che si impegnerà a garantire la vivibilità del parco. La scuola diocesana di formazione teologica pastorale San Francesco Fogolla ha ripreso da circa un mese le attività didattiche nelle due sedi della Covetta e di Pallerone. Questo venerdì 16 novembre alle 18.30 è in programma l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico. Interverrà Diego Maria Pancaldo, docente di ideologia spirituale alla facoltà teologica dell'Italia centrale di Firenze, con una relazione dal titolo La Pira e Giovani. L'incontro si terrà nei locali della parrocchia della Santissima Annunziata a Bassa Grande ed aperta a tutti. La scuola diocesana prevede un percorso di 416 ore di lezione, mentre 26 sono le settimane di lezione divise in due quadrimestri. Alle lezioni è possibile iscriversi come studente ordinario oppure come uditore. L'azienda USL informa che il dottor Mauro Moscatelli, medico di famiglia nell'ambito territoriale di Carrara, cesserà la propria attività il 19 novembre 2018. L'ASA invita i suoi pazienti a scegliere un nuovo medico usando i diversi canali disponibili, personalmente al distretto di appartenenza oppure online direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico alla sezione Servizi Toscana e quindi Salute, utilizzando per autenticarsi la tessera sanitaria che deve essere attivata oppure il sistema di identità digitale Speed. Festa della Castagna, ultimi preparativi per la prima edizione di Monte di Castagne, la manifestazione voluta dall'assessorato alla cultura del Comune di Massa, che si terrà domenica 18 novembre all'interno del Parco del Monte di Pasta. Una giornata da rascorrere all'aria aperta in uno dei bellissimi polmoni verdi della città, in passato troppo spesso dimenticato. La manifestazione ruota attorno alla Castagna e a piacere dell'autunno con performance artistiche, approfondimenti sul tema e intrattenimento anche per i più piccoli. Durante la giornata possibilità in giro in poni per i bambini con il centro Ippi Capuano. La mattina dalle 10 alle 12, D'Artagnan, il mago delle bolle, campione mondiale di bolle 2017. Durante la giornata Matteo Arfanotti, campione mondiale di body painting con modelle e trucco per i bambini. Dalle 16 alle 18, musica dal vivo con il gruppo Good Old Boys. Passiamo allo sport. Grande match, quello che si disputerà sabato pomeriggio alle 15 all'attenso su struttura Colline Massesi per il calcio A5 Città di Massa, che ospiterà in casa il Real Rieti, squadra di serie A1. Il Città di Massa, rimasto tra le 16 squadre nazionali a concorrere alla Coppa della divisione, si viderà un colosso del calcio A5 nazionale, che vanta nella sua rosa nomi importanti del calcio brasiliano. Il Real Rieti, una squadra strutturata di altissimo livello di serie A, giocherà contro il Città di Massa, squadra di serie B, che nelle ultime partite si è distinta per capacità e preparazione atletica. Portandosi a casa su 11 match disputati tra Campionato, Coppa Italia e Coppa della divisione, soltanto una sconfitta e 10 vittorie consecutive. Sappiamo che sarà un'impresa titanica la partita contro il Real Rieti, afferma il Presidente della Città di Massa Andrea Vannucci. Per noi è un onore ospitare una realtà così grande e che oltre a giocare in due categorie superiori alla nostra, ha una rosa di giocatori che vantano presenze anche a livelli nazionali di calcio A5. Un orgoglio portare il nome di Massa alla ribalta. La partita sarà senza esclusione di colpi, come chi ben conosce il Città di Massa è abituata a vedere. Spazio a destra alle previsioni meteorologiche, vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 16 novembre. Cielo sereno su tutto il territorio ma con un brusco calo delle temperature e con venti che soffiano tesi, ma il mare resta quasi calmo. Sabato 17, nuvolosità al mattino, più sereno invece dal poveriggio. Le temperature subiscono un ulteriore calo e anche i venti soffiano più forti. Il mare invece potrebbe tornare mosso. Nel fine settimana cielo variabile, le temperature continuano a calare e i venti a soffiare tesi. Mare quasi mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Il telegiornale termina qui, non ci sono notizie nell'ultimo minuto. Io vi ringrazio di aver scelto la nostra informazione e di essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una splendida serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie.